Siamo ritornati al Galtellerhof Hotel, uno dei migliori hotel moho della categoria Select, che si trova in Austria a pochi chilometri dal confine e a circa un'ottantina di chilometri da Packersi, il grande raduno che sta raccogliendo tanti appassionati che sta crescendo in maniera esponenziale. Siamo qui con la padrona di casa, la nostra amica Christine. Christine, dov'è che ci troviamo esattamente, il paese? Magari tu lo pronunci meglio di me. A Kutchach Mountain, sono 15-14 chilometri della frontiera. Ecco, diciamo che questo è un paesino molto coccolo e molto tranquillo, dove si possono raggiungere bellissime località e quindi organizzare anche interessanti itinerari. E questa è una cosa importante perché la caratteristica dei moho Hotel Select, che in questo caso è la padrona di casa, è anche una guida turistica, quindi porta in giro i suoi clienti. Dove li porti? Domani andiamo al Großglockner, poi si può andare in Slovenia, si può andare a fare il Nockheim, Stahlersattel, ma siamo aperti in tutte le direzioni. È bellissimo. Ogni giorno si può vedere un posto nuovo? Sì, esatto. Tutti i clienti sono tutti appassionati bikers. Qui si sentono a casa, quali sono i servizi che offrite a loro? Abbiamo il garage, il motorhome, che è dentro nella casa, poi facciamo dei giri, abbiamo delle route già preparate, anche per il CPS, poi c'è per riparare. Quindi c'è anche un'officina per riparare le moto? Sì, una piccola ufficina per riparare le moto, poi c'è se viene la pioggia, quasi mai. Meno male. Sono tutti più contenti. Sì, esatto. Abbiamo un posto dove si può asciugare tutto. Quindi bisogna venire qua per forza, bisogna scegliere un moho hotel cristiano, della categoria Select, poi, che offre tutti i servizi. E una cosa, questo mi sento di aggiungerlo io, si mangia benissimo. Grazie. Si mangia benissimo. Quindi noi italiani che ci teniamo la cucina, sicuramente qui rimaniamo soddisfatti. Niente, Cristina, vuoi aggiungere qualcosa? Mari, se viene a trovarti qualcuno che segue BikerExplorer.tv? Sì, c'è la prima birra piccola e offerta della casa. Quindi, mi raccomando, venite a trovare Cristina. Ciao! Sì, c'è la prima birra piccola e offerta della casa.